Buongiorno a tutti, eccoci per la Envy News quotidiana 5 settembre. Oggi raccolgo un invito, una sollecitazione che mi arriva dal direttore dell'Associazione Italiana Comuni Virtuosi, Marco Boschini, che mi ricorda che è appena stata lanciata la nuova edizione, la dodicesima, se ricordo bene, del premio Comuni Virtuosi che vuol dare un riconoscimento a quei comuni che fanno qualcosa di interessante, in particolare rivolto ai temi ambientali sul proprio territorio. Il premio è suddiviso in cinque sezioni, c'è una sezione che è proprio gestione del territorio, quindi riporta anche un po' alle origini dell'Associazione stessa, su intuizione di Domenico Finiguerra, che è stato sindaco e che per primo in Italia ha adottato un piano regolatore senza ulteriori consumo di suolo, e quindi fermando un po' la cementificazione, c'è una sezione dedicata alla impronta ecologica della macchina comunale, cioè con l'idea che bisogna dare l'esempio, il buon esempio per primi, e quindi se si chiede agli altri di ridurre le emissioni, di fare meno rifiuti, di consumare meno energia, ecco la prima cosa bisogna farla all'interno della macchina comunale, quindi all'interno degli edifici comunali, aiutare i propri dipendenti comunali ad adottare misure sostenibili, dando loro delle occasioni e opportunità per poterlo fare. C'è un tema legato alla mobilità sostenibile, quindi iniziative adottate all'interno del comune, quindi per la popolazione, per incentivare una mobilità lenta, una mobilità diversa, appunto sostenibile. C'è una sezione dedicata agli stili di vita, ai nuovi stili di vita, quindi in questo caso il comune che promuove degli stili di vita più sostenibili per la propria popolazione, è un'area ovviamente, dico ovviamente per me, legata al tema dei rifiuti, raccolta differenziata, fiscalità premiante, riduzione dei rifiuti, eccetera. Ora, la cosa che io trovo molto interessante del premio in generale di queste reti, ne esistono molte, fortunatamente anche in giro per l'Europa, penso all'ICLEI, penso alla CR+, penso alla rete del Green Capital, eccetera. Cioè, la cosa che trovo molto interessante è il fare rete, e cioè il mettere a disposizione le esperienze, perché in fondo fare l'amministratore significa avere una carica protempore, non è una professione, che significa per quanto uno abbia uno staff, per quanto una persona possa avere una serie di consulenti, si fa sempre difficoltà a capire in tempi rapidi le misure migliori da adottare, allora cosa c'è di meglio che non guardare e cos'hanno fatto gli altri cercando di trasferirsi le competenze, capire come è stato fatto, quanto è costato, anche perché a volte il trasferimento dell'idea è la cosa che costa meno e anzi ti fa risparmiare dei soldi. Io quando vado in giro per lavoro o per turismo, per relax, non riesco a fare a meno di guardare come sono gestiti gli spazi verdi, come l'arredo urbano, mi chiedo come mai per esempio il nord Europa ci sono meno buche, piuttosto che le linee per terra di demarcazione delle corsie, piuttosto che dei passaggi pedonali durino di più che non da noi in Italia. Lo chiedo, mi fermo, chiedo agli amministratori scoprendo cose che, ripeto, alla fine poi ti costano anche meno. Quindi un invito ai comuni italiani a partecipare al premio Comuni Virtuosi, scadenza 31 ottobre, e a fare rete, scambiarsi le buone pratiche, aiutarsi perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie a tutti e se volete condividete, seguitemi sull'Envy News, a domani, ciao!